La maschera etno-antropologica di Eboli, il Don Annibale, è entrata ufficialmente a far parte del patrimonio culturale immateriale della regione Campania. La richiesta era stata presentata nel gennaio scorso e dopo lunghi mesi di attesa è giunta a buon fine, ad annunciarlo con grande soddisfazione e l'omonima associazione, dopo aver ricevuto il decreto della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo regionale. Il Don Annibale è una farsa che risale ai primi anni del Settecento. Veniva recitata, cantata e suonata con particolare motivo per il paese Burino nelle domeniche che precedevano il Carnevale e il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale. È stata tramandata da generazione in generazione fino ai giorni nostri. La farsa del Don Annibale continua a rimanere in vita grazie anche all'associazione che si prodiga di anno in anno a portare in scena per le vie e le case del paese l'antica rappresentazione. Sei le maschere principali interpretate da altrettanti figuranti. Don Annibale, Giulietta, Zia Agnello, il dottore Pulcinelle e Carolina. Ora che Don Annibale ha scritto il suo nome nel registro dei beni culturali immateriali della campagna, spiega Cosimo Parisi, presidente dell'associazione, è pronto a portare il nome della città di Eboli ancora più in alto.